Ciao a tutti, oggi sono qui per parlarvi di una dea molto meno conosciuta dai classici dei cosiddetti olimpi e mi riferisco a Ebe, Ebe conosciuta soprattutto come la copiera degli dèi e infatti lei versa Nettere e Ambrosia agli dèi per consentirli di restare immortali. Ebe è figlia di Zeus e di Hera ed è sorella di Ares, Marte per i Romani, e di Irizia. Non è soltanto la copiera degli dèi, cura anche le ferite. Omero la cita a proposito della rissa tra Diomede e Ares, quindi è lei che corre in soccorso dei rissosi, per certi versi aiutandoli a medicarsi. È una piccola grande madre con una illimitata energia ed è molto simile per innocenza, per curiosità, per voglia di divertirsi ad Eros, anche un po' birichina. Infatti Ebe è un adolescente con tutte le attitudini dell'adolescente. In realtà rappresenta la nostra parte bambina di sogno, di innocenza, di creatività e di conseguenza è anche legata alla luna crescente. Nelle tre fasi del femminile la luna crescente è proprio il momento in cui la donna prende coscienza, la giovane donna prende coscienza di chi è, del suo femminile, è ancora piena di sogni, deve ancora vivere tutta la sua vita, non vive ancora la vita adulta. diventerà Ebe, questo viene citato da altri autori, poi la sposa di Erecle, Ercole, sempre per i latini. Lei ci consente, quando la contattiamo, di ritrovare la nostra parte bambina anche negli adulti, anche nelle donne adulte. Quindi se anche siamo nella fase della luna piena o nella fase della luna calante, dentro di noi c'è sempre questo aspetto. Contattare questo aspetto ci consente di essere più creativi, di essere più fiduciosi, di divertirci, di sorridere, di sentire gioia. Come sapete, io vi parlo spesso dell'essenza degli dei attraverso un breve scritto che ho preparato e che adesso vi leggo. L'essenza di una Dea nasce dalle sensazioni, dalla percezione della sua energia e dall'aura che spande intorno a sé. Ebe sa di talco, di primula e di latte appena munto. Quando si muove, a volte in veli leggeri, porta la sua grazia e la sua gioia di adolescente nel mondo. Il suo è un sorriso incantato di giovane donna che sogna il suo domani. I suoi occhi guardano intorno con la sorpresa di chi trova tutto nuovo, tutto sorprendente. Lei è la promessa del nostro futuro ed è la nostra sorella bambina, la sorella bambina del nostro essere e anche la nostra bambina interiore, indipendentemente dall'età. Quindi mettiamoci in contatto con lei quando vogliamo accedere a questa parte più infantile della quale non dobbiamo avere paura, ma anzi dobbiamo essere grati al nostro bambino interiore perché ci porta avanti e ci dà freschezza e nuovi obiettivi. Per oggi ho finito. Se questo video vi è piaciuto vi chiedo di mettere un like, di iscrivervi al mio canale perché sapete che io poi metto la premiera e quindi siete avvisati in anticipo e di mettere tutti i commenti, condividere con gli amici, contattarmi, iscrivermi, come preferite. La prossima settimana entreranno in contatto con un'altra Dea o con un altro Dio. Per oggi vi saluto, vi auguro di restare in connessione col vostro bambino interiore. Tanta luce e tanto amore. Ciao!